25 aprile stiamo andando a sirmione sono le 11 io sono piede di raffreddore alessandro uguale quindi vediamo se l'aria del lago riuscirà a farci guarire il rossetto è un peggio ed cioè è meraviglioso vado perché siamo ritardissimo come sempre eccoci fermi ad aspettare la nonna che ha pensato bene di mettere sui tachi oggi per andare a lei dove andiamo al lago vediamo amore la sirmione cambio di situazione stiamo andando all'azzise al lago il camion cosa ti ha regalato la nonna fa vedere la nonna ti ha regalato il camion col trattore non è mai caldo amore avete arrivati all'azzise gli ho già persi tutti tutti li ho persi e me le non è veri però allora ma si può ma si può ma si può non Sì, sì. giornata meravigliosa sento che mi sta passando il raffreddolo io lo so che non sto filmando niente ma mi sto proprio godendo la giornata con il raffreddolo e tutto ma me la sto godendo anche Alia ha detto se sentite sta dormendo adesso stiamo tornando a Nazzisi e siamo andati fino a Bardolino a Pitti che ha portato Manoel? Dove siamo amore? arrivati arrivati chi si ricorda? chi si ricorda? pollici in su chi si ricorda mi raccomando dai che ti mangi il dolce? non è che cade buon appetito ciao ragazzi mi sono accorta che non avevo chiuso il vlog e lo sto chiudendo adesso prima di andare a letto sono le undici e mezza siamo arrivati che erano le dieci mi rilassano già tutti dormendo e niente adesso andiamo a letto ciao presto